Si chiama Max Adventure Master Thai ed è stata inaugurata oggi alla vigilia delle due settimane centrali dell'estate 2011 la nuova attrazione del Parco Divertimenti Ravennate Mirabilandia. Le principali caratteristiche del Double Coaster Family e la ricaduta delle presenze al Parco Divertimenti sul turismo locale nelle parole di Riccardo Capo e Maurizio Melucci. Abbiamo ampliato Mirabilandia, abbiamo inaugurato la ventesima stagione e volevamo rendere Mirabilandia più importante a livello dei più grandi parchi europei. L'abbiamo ampliato e nel mentre abbiamo messo questa novità che è un roller coaster doppio per famiglie dove tutti dai bambini agli adulti si possono divertire nello stile di Mirabilandia. La stagione è una stagione che è iniziata e sta proseguendo molto bene, abbiamo fatto tutta una serie di offerte proposte alle famiglie ma non solo per cercare di portare più gente al parco e la risposta è stata ottima. Il mio parere è una promozione strategica, non solo perché noi lanciamo l'apertura della stagione estiva con la Riviera dei Parchi che sono parchi di eccellenza a livello europeo dove svetta Mirabilandia per le sue attrazioni e per i numeri che fa ma soprattutto sono parchi che investono ogni anno e rinnovano le proprie strutture, ampliano le attività, nuove attrazioni per un pubblico sempre più esigente e questo fa buon sperare perché si scommette sulla nostra riviera, sulla nostra costa da parte di imprenditori, in questo caso tra l'altro non italiani ma che sanno che su questa costa c'è un punto di eccellenza del turismo a livello internazionale.